Buongiorno, buona settimana, sono le 8.30 di questo 8 marzo, oggi è la giornata mondiale della donna, bentrovati per questa prima edizione del nostro giornale. In apertura una notizia dell'ultima ora, arrivata pochi minuti fa in redazione. A Bari la polizia ha notificato a un algerino di 36 anni un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla direzione distrettuale antimafia di Bari per partecipazione ad organizzazione terroristica. Le indagini hanno accertato la sua diretta attività di supporto agli autori degli attentati terroristici avvenuti in Francia nel novembre del 2015, esattamente al Teatro Bataclan, allo Stade de France e nel primo, decimo e undicesimo a Radismond, il cui avrebbe garantito la disponibilità di documenti contrappatti. Naturalmente poi su questa notizia ci torneremo nel corso delle nostre prossime edizioni. Intanto roccopiamoci dell'emergenza coronavirus in Puglia, scendono di poco i dati. Oggi Campania ed Emilia Romagna rosse, la Puglia ancora in giallo, ma molti si chiedono per quanto. Lieve discesa dei casi da coronavirus in Puglia nel bullettino regionale del domenica. I casi registrati sono 1.155. La Maia Nera spetta ancora alla provincia di Bari con 570 casi dopo che sabato avrà raggiunto il record di 600. 229 nel Foggiano, 134 nel Tarantino, 34 nel Salento, 57 nel Vindisino e 74 nella Batte per un totale di casi a livello regionale di 155.457. E mentre in una intervista televisiva il ministro della Salute e Speranza si augura ipocritamente che la curva epidemiologica salga, per cui altre ragioni vadano verso il rosso, mette in evidenza quanto questo governo sia legato all'attuale emergenza. E dice anche che entro l'estate tutti gli italiani avranno a disposizione i vaccini che vorranno. E tra l'altro si attende una novità anche da AstraZeneca che sarà somministrato anche agli over 65. Ed ora occupiamoci della conclusione della visita di Papa Francesco in Iraq. Ha chiesto rispetto per le donne che nei conflitti in Iraq hanno subito le perite più profonde. Nell'incontro con la comunità cristiana che ha subito la barbaria dell'Isis, Papa Francesco ha ricordato che le mandri consolano e convortano e danno vita. Inoltre sempre lì ha incontrato la comunità cristiana che nel 2014 fu scacciata via dall'Isis e che solo di recente sta tornando. Tra l'altro questo incontro, dice Papa Francesco, dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai l'ultima parola. E' stata celebrata la scorsa settimana i 30 anni della emigrazione albanese, un evento che ha segnato la cultura e la politica di Puglia ed Albania. Sono passati 30 anni da quel marzo del 90 quando ci fu l'arrivo di migliaia di propri albanesi in Puglia. Un evento che ha segnato la storia della cronaca e della politica di allora. Il Consiglio regionale pugliese lo ha ricordato insieme al suo scorso con la presenza del premier albanese Rama. Per il governatore pugliese Emiliano non abbiamo mai detto una cosa e poi ne abbiamo fatta un'altra. Tutte le volte che ci siamo promessi amicizia, sostegno e solidarietà abbiamo mantenuto l'impegno. L'evento rappresenta anche il titolare del di Castello degli Esteri, Di Maio, che mette in evidenza come quell'evento fu importante soprattutto perché anche la nostra lingua e la nostra cultura facevano parte di quella situazione e anche il modo con cui gli occhi di informazione seguirono quegli eventi drammatici. La Presidente del Consiglio regionalico che dà la Capone nel suo intervento dice il nostro impegno è migliorare sempre più la cooperazione, renderla ancora più proficua puntando sugli scambi commerciali, sulle attività culturali e sulle opportunità che possano consentire ai nostri giovani di coltivare nuove prospettive di crescita. Ricordiamo ancora la notizia con la quale abbiamo aperto oggi il nostro giornale con questo arresto avvenuto a vari di un algerino che è stato attività di supporto agli autori degli attentati terroristici di Francia, avvenuto nel novembre 2015. L'arresto è stato disposto dalla direzione distrettuale antimabia di Pari per partecipazione ad organizzazione terroristica. Ed eccoci alla pagina sportiva, il campionato nazionale dilettanti Gruppo H ha regalato emozioni in una partita specialmente quella del Monterisi tra Audace e Cerignola e la squadra del Morpetta. Se non ci fossero state amnesie difensive, oggi i giallo-blu Ovantini sarebbero con tre punti in tasca per proseguire il loro campionato. Se la guerra fosse stata più accorta, la Audace e Cerignola non sarebbe tornata a casa con il bicchiero mezzo vuoto. Il 4-4 del Monterisi contro il Morpetta dimostra che in difesa c'è da lavorare parecchio e con quattro amnesie difensive hanno consentito agli ospiti di pareggiare. L'inizio è in discesa per l'Audace e Cerignola che si porta in vantaggio al sesto minuto con il regore che si può curare ma il cuore che trasforma. Non passa poco tempo che il Morpetta arriva al pareggio al ventesimo. Su punizione arriva il colpo di testa preciso dell'ex di Bari ed è la prima amnesia difensiva del match. I locali non si perdono d'animo e ripartono di sdancio. Dopo aver fallito tre palle e gol si riportano in vantaggio su azioni personali di De Cristoporo per il 2-1 dei ragazzi di pazienza al minuto 24. Morpetta mai dopo. Un cross dalla sinistra incrocia la cara al trentottesimo per il nuovo pareggio che porta il risultato sul 2-2 alla fine del primo tempo. Nella ripresa l'Audace e Cerignola sembra decisa di trovare subito il vantaggio che arriva al quarto d'ora. De Cristoporo serve con splendidezza a Klik che con un tiro a palombella va sul 3-2 Ufantino. Ma ancora una volta la difesa dell'Audace va acqua. Passano solo due minuti che su punizione arriva il colpo di testa di Acosta e si ricomincia da capo. 3-3. Mancano 15 minuti alla fine. Dopo un'occasione ghiotta, di nuovo l'Audace si riporta in vantaggio con Malcove che indisturbato riporta avanti la sua squadra. Ma di certo le sorprese non sono ancora finite perché poco tempo dopo, dopo un'occasione pallita da A-Klik, di nuovo il Molpetta arriva al definitivo 4-4 con Variale che infila dopo un rapido contropiede. Poco tempo per riposare, anzi di più, visto che il prossimo fine settimana si dovrà riposare. L'Audace tornerà in campo il 25 marzo con la trasferta di Vortici. E con l'aiuto della grafica adesso andiamo a vedere tutti i risultati della giornata partendo naturalmente dalle sfide tra la formazione del Vortice da Videlisandria 2-0, poi a Versa Vortici 4-0, poi a Sorrento, Tarantobate e Sorrento 2-0, Udace e Cerignola, Molpetta 4-4, poi a seguire la sfida di Brindisi, tra Brindisi e Basano e Finita 2-2, Lavello-Brancavilla 6-2, poi Puteolana e Nardò 2-1, Udace nella zona di classifica con 25 punti, Sorrento e Versa a quota 24, Basano 20 e Brindisi a quota 19. Allora sono le 8, 38 minuti e 39 secondi, allora come sempre diamo il buongiorno e la buona settimana a Barbara Prampolini. Barbara, buongiorno! Buongiorno a te e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Benissimo, allora oggi cominciamo col dire che per quanto riguarda il meteo, stanotte è piovuto, il cielo è nuvoloso, però piovigina da un minuto all'altro. Da te? Allora, come puoi notare, allora da me sicuramente non fa caldo, allora il cielo è sereno, quindi bella giornata di sole, ma molto molto fredda, calcoliamo che ci sono ora intorno ai 4 gradi, per cui questo ovviamente preciso che non è finto, questo è sintetico, questo pelo, perché non vorrei scatenare le ire degli animalisti, però fa freddo, fa molto molto freddo e quindi speriamo che pian piano le temperature si rialzino, perché in effetti non è il massimo. Visto che oggi è una ricorrenza importante, mettiamo in evidenza la tua grazia e il tuo sorriso in questa giornata particolare, quindi... Sempre. Benissimo, allora un'anticipazione, vuoi mai di entrare nel vivo della rassegna stampa, Barbara? Guarda, posso dire una cosa, che a lunedì di solito i giornali non sono tanto ricchi, non hanno grandi cose di cui parlare. Oggi invece bisognerebbe solamente avere il tempo per potersi mettere comodi e leggerseli tutti, perché fra l'altro non tutti danno le stesse identiche notizie, va bene, ci sono quelle di cui ormai sappiamo che ci accompagnano da veramente tanto tempo, però c'è molta diversificazione, molti spunti di riflessione, oggi veramente i giornali sono interessantissimi, contrariamente ripeto a tanti altri lunedì. Perfetto, allora non perdiamo tempo e allora subito sigla e poi la rassegna stampa di Barbara, noi ci ritroviamo subito. Buongiorno a tutti, buon lunedì, ma soprattutto buona festa della donna a tutte le donne. Auguri veramente di cuore a tutte le donne, ma come ho scritto anche sulla mia pagina, auguri a tutte le donne che amano se stesse, che si amano, che si rispettano, che sono contenti di essere donna, auguri anche a tutti gli uomini che amano le donne e le rispettano. Andiamo subito sui giornali, perché veramente oggi sono super, super ricchi e volevo partire proprio da qui. Volevo partire dal messaggero, un attimo, un attimo, che lo trovo subitissimo, perché mi interessava molto assai l'intervista, ma vi leggo solamente proprio l'incipit, che è alla Casellati, parità quando non servirà l'8 marzo. Intervista alla Casellati, da parte di Barbara Yerkov, qua si vede anche male, la vera emancipazione è passare dalle quote al merito, perché rappresenta esattamente il mio pensiero, per quanto possa. Invece ad esempio sul domani, proprio per dire che appunto le visioni non sono sempre identiche, sul domani invece si scrive che la parità, scrive che la parità avverrà quando ci saranno meno mimose, più quote rosa. Quindi vedete che le visioni non sono sempre le stesse. Andiamo avanti, ma veramente veloce, perché ci sono tantissime cose di cui vi voglio parlare. Allora, siamo sulla verità. Voi sapete che è il mio giornale preferito per quanto riguarda le inchieste, la parte politica a volte la leggo, a volte no, però le inchieste sono molto interessanti. Caso Gregoretti a Catania, processo a Salvini, già finito, dice la Morgese, testimone a favore. Sentita assieme a Di Maio, il ministro dell'interno conferma al giudice le continuità di procedure tra giallo-blu e conte bis. Navi messe in attesa anche per nove giorni prima della risposta o è alla ridistribuzione dei migranti, per cui insomma sembra che questo affare si stia abbastanza sgonfiando. Sempre in prima pagina sulla verità, il pentito contro Fratelli d'Italia si è rimangiato tutto. Vi ricordate che il caso di Giorgia Meloni che era stata attaccata per essere stata accusata di aver dato dei soldi per comprare dei voti, eccetera, che cosa era stato un caso, tutti i giornali ne hanno parlato, Repubblica, grandi cose, eccetera, Meloni ha fatto un video veramente al fulmicotone, molto bello devo dire, dove afferma fondamentalmente che chi non ha fatto nulla di male non deve temere nulla e poi che cosa è successo? Che il pentito si è rimangiato tutto. Repubblica ha riportato la versione di un informatore di Latina che nel 2018 accusava la Meloni di aver comprato voti. La replica, l'interessato ha smentito due anni dopo nello stesso verbale, letto solo a metà. Questo è un bel problema. Andiamo ancora avanti, volevo vedere se c'era qualcosa ancora qua sulla verità, ma andiamo avanti, siamo sul giornale. Siamo sul giornale, anche qui una cosa mi sembra molto carina, stiamo parlando sempre, anche qui si parla di donne, ma la giustizia, così il sistema rovinò vita e carriera della capua, sapete l'aria capua che ha avuto delle vicende giudiziarie e poi risultate prive di sostanza, però nel frattempo ha dovuto andare a lavorare all'estero, poi dopo, tante vicissitudini all'interno del giornale ci sono gli approfondimenti. Sempre sul giornale svolte in migrazione di nuovi verbali di Lamorgese che inchiodano le ONG, la testimonianza del ministro sul caso Gregoretti svela i trucchi delle navi e dà ragione a Salvini. Andiamo ancora avanti, entro l'estate in Italia saremo tutti vaccinati, scrive Manila Alfano, e sempre all'interno c'è l'approfondimento, l'8 marzo di otto eroine sono le donne fuori dal coro, all'interno ci sono i profili di otto donne che dopo se rimane tempo lo vediamo, altrimenti vi invito a leggerlo se vi interessa, Massimo Veronese appunto descrive i profili di otto donne particolari che si sono battute per la libertà da Hong Kong all'Arabia Saudita, dal Venezuela all'Iraq fino all'Europa, otto spiriti contro il coro proprio come noi. Andiamo avanti, andiamo avanti, siamo su Repubblica Repubblica, parte proprio, i diritti delle donne sono diritti di tutti, c'è un grande inserto, un grande inizio appunto delle pagine di Repubblica dove si parla appunto delle donne, profili di donne e si dà largo spazio a questa giornata appunto dedicata alle donne. poi in prima pagina un lockdown per ripartire, si fa strada l'ipotesi di zone rosse in tutta Italia, l'obiettivo del governo è la vaccinazione di massa, balzo in avanti dei contagi, oggi vertice con draghi, aumentano le proteste per le scuole chiuse. Via libera del ministro Speranza, AstraZeneca anche agli over 65. Come abbiamo visto che comunque il cambio di passo è abbastanza significativo. Ecco, un'altra cosa molto bella che questa la riporta appunto Repubblica tutta Italia dentro l'una rossa. Domani notte a Oakland parte la sfida dell'America's Cup. Questo a me piace molto perché sembra che in Italia molto spesso le uniche notizie degne di nota sportiva siano quelle relative al calcio invece devo dire che stiamo facendo veramente un'impresa prodigiosa che merita di essere sottolineata ed evidenziata oltre che seguita per chi vuole di notte guardarlo in diretta. Il viaggio in Iraq il Papa che sta rientrando dal viaggio appunto in Iraq ci sono piccole parti relative a Sanremo ve le lascio perché appunto io non l'ho seguito non per questioni di principio ma perché non lo amo particolarmente quindi non voglio addentrarmi Zingaretti dalla D'Urso non torno pare appunto che si sia confidato diciamo così con la D'Urso andiamo avanti ancora voglio andare direttamente al Corriere della Sera una cosa molto bella che vi voglio leggere se facciamo sempre in tempo allora Corriere della Sera spinta per vaccinare tutti anche qua si parla sempre della stessa cosa poi di Angelo Panebianco invece l'editoriale un elogio dei buoni risultati etica e politica questo ve lo voglio leggere un attimo perché è molto molto bello Fabio Colassanti Corriere del 6 marzo ha centrato il punto la ragione principale per cui Stati Uniti Gran Bretagna e Israele hanno lasciato indietro l'Europa continentale e il distacco non appare al momento colmabile il tema di vaccinazione anti-covid ha a che fare con una differenza culturale la quale a sua volta tracima in ambito politico amministrativo e giudiziario Stati Uniti Gran Bretagna e Israele sono mi porta via il Corriere e io mi arrabbio tantissimo perché lo stavo leggendo per quale motivo mi fa questi dispetti perché brutto cattivo ah niente mi ha praticamente rubato il Corriere praticamente insomma cosa dice eccoci l'ho ritrovato è una questione dicevamo culturale bene perché dice fondamentalmente questi paesi sono paesi pragmatici per i quali ciò che conta più di qualunque altra cosa è il risultato finale al contrario quelli europei continentali sia pure con differenze di grado fra l'uno e l'altro sono paesi giuridici per i quali il fatto che i soldi pubblici vengano spesi correttamente è cosa più importante del risultato si noti che nel successo fin qui registrato di Stati Uniti Gran Bretagna Israele in tema di vaccinazioni confluiscono varie ragioni l'orientamento pragmatico quindi dicevamo il risultato prima di tutto è rafforzato in primo luogo da una condizione di generale fiducia del pubblico nella correttezza del comportamento delle amministrazioni nel caso dei vaccini gioca anche un atteggiamento non pregiudizialmente contrario alle imprese private farmaceutiche nella fattispecie è legittima ossia socialmente accettata la loro ricerca del profitto il caso italiano è fra i giuridici europeo-continentali quello che mostra le patologie più gravi poi all'interno prosegue e continua e devo dire che è molto molto interessante andiamo a vedere velocissimamente qualche altro titolo ad esempio la stampa retromarcia sul cashback 3 miliardi in più ai più poveri viaggio a Dubai bufera su Renzi poi vediamo ancora chi ci può essere vi ho già detto molto 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 libero lasciate che i privati comprino i vaccini anche qua ovviamente la guerra fredda dei vaccini apre così il tempo vi ho segnalato appunto l'intervista del ministro sul messaggero scuola a casa nove ragazzi su dieci e Lombardia da lockdown è l'apertura invece del fatto quotidiano Mimmo ci sono stata con i tempi dai dimmi che sono molto brava anche se ho voluto bravissima sei bravissima con i tempi Barbara sentiti voglio trattenere solo qualche secondo perché come sanno anche coloro che ci seguono nel corso di questo fine settimana era attesa una tenuta intervista di Harry e Meghan alla popolare condottrice americana Oprah Winfrey dunque possiamo dire che ci sono un po' dei dettagli che hanno rilasciato nel corso di questa intervista io ce li ho qui in agenzia però voglio capire tu che cosa ne pensi guarda io penso questo adoro come si usa dire oggi la regina Elisabetta tutti si aspettavano che avrebbe fatto qualche esternazione si sarebbe lasciata sfuggire qualche affermazione in merito proprio a questa intervista il suo silenzio è stato come sempre glaciale e ha parlato molto di più di tantissime parole anche se qualche indiscrezione lascia intendere che non si intende occupare di queste cose invece pare che Meghan Markle abbia così lanciato accuse molto pesanti nei confronti del regno perché sì in effetti io posso dire secondo l'agenzia che abbiamo qui in questa intervista a Meghan usiamo il condizionale parlerebbe addirittura di pensieri suicidi mentre Harry dice abbiamo fatto il possibile per restare ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione guarda secondo me questi due aspetti l'atteggiamento della regina e l'atteggiamento di tutti i due ragazzi rappresenta un po' anche lo specchio della nostra società la regina è la numero uno e fra l'altro pare proprio che tutti gli inglesi si siano schierati proprio con la regina che fra l'altro ricordiamolo non sta passando un gran bel momento Filippo in ospedale e non sta bene il principe chiaramente ha anche una certa età però insomma è sempre il marito è sempre il principe diciamo consorte e sembra che invece questi due ragazzotti l'idea che danno è che siano un po' capricciosi e facciano un po' tutto sommato i capricci quindi la regina prende le distanze e i suoi sudditi sono assolutamente con lei quindi benissimo questa allora così come abbiamo aperto con la grazia e con il tuo sorriso questa mattina la chiudiamo lo stesso il pensiero come al solito per i tuoi pelosi tranquilli anche oggi vero Barbara? sempre sono ai blocchi di partenza per uscire uno alla volta per cui sono tutti tranquilli e rilassati sanno che adesso ci divertiremo insieme perfetto allora un abbraccio Barbara ci sentiamo e ci vediamo come al solito domani mattina perfetto buona giornata a tutti grazie bene grazie a Barbara Brampolini sono le 8.53 termina qui questa edizione del mattino di Buornio su 24 vi ricordo che il nostro prossimo puntamento sarà come sempre alle 13 con Sport Report 24 del lunedì grazie per la vostra attenzione e buona settimana grazie a tutti grazie a tutti per la vostra